Possiamo però ricordare che qualche settimana fa a Merano è stato arrestato il capo di una cellula islamica legata ad un'altra cellula islamica in Norvegia e questo terrorista, perché è stato riscontrato dalla procura che era un terrorista, e una settimana fa anche a Bari, a Merano, questo era un rifugiato politico, e gli era stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, lo Stato italiano gli pagava un appartamento e gli dava 2 mila euro, l'amministrazione pubblica gli dava 2 mila euro di sussidio a lui e ai suoi cinque figli, stessa cosa è successa a Bari. E se lo diciamo ai soliti pensionati non è che sono contenti. Quando la Lega diceva attenzione perché l'immigrazione clandestina è incontrollata, di massa, senza regole e senza controllo, rischia di essere uno strumento grave e gravissimo per l'infiltrazione, visto che siamo a 300 km dalla Libia, anche del terrorismo islamico, eravamo etichettati noi Salvini come i soliti, razzisti, xenofobi, sciacalli.